Salve a tutti bentornati nel mio canale il titolo di questo video sembra riportarci indietro di vent'anni perché appartiene a quando fu introdotto il sildenafil nel 1998 il famoso Viagra adesso sostituito da sildenafil generico o galenico in alcuni casi e altre molecole sotto altre formulazioni tipo Sile e Rabbe sono questi film sublinguali sempre fatti da sildenafil ma sotto una formulazione diversa ci fu un abuso, un'esplosione dell'utilizzo con dei recessi che non erano legati in maniera univoca all'uso della molecola in sé per sé ma perché magari il soggetto che abusava di questa molecola aveva delle cardiopatie in atto delle patologie cardiache severe che chiaramente il sovradosaggio e anche lo stress fisico che la molecola portava alla persona che si dedicava in maniera eccessiva anche a un'attività sessuale magari da tempo sopita e non più raggiungibile senza la farmaco poteva portare a degli eventi cardiovascolari come se improvvisamente un cardiopatico si mette a preparare la mezza maratona con allenamenti estremi dal primo giorno. Ultimamente però ci è cercato di rivalutare a distanza di siamo 24 anni dall'esordio della molecola se effettivamente ci fosse ci sia perché è un lavoro recentissimo siamo nel fine siamo a dicembre 22 il lavoro è di ottobre 22 se ci sia una relazione una correlazione tra l'utilizzo del sildenafil e morti per di solito motivi cardiovascolari. Si è fatta quindi una revisione sistemica di tutta la letteratura con migliaia di articoli chiaramente sono stati selezionati per la loro validità scientifica in alcuni report si parlava addirittura di una mortalità del 25% parliamo di assunzioni diciamo anarchiche di automedicazione di persone che hanno intrapreso l'utilizzo di sildenafil da dosaggi anche al di sopra di quelli classici si parla di 200-300 mg per ogni occasione. Allora in quel punto si è visto che al di sopra di certe quantità di molecole a livello ematico perché sono state eseguite anche delle autopsie effettivamente vi era una possibilità di correlazione tra un incidente cardiovascolare e l'uso abuso della molecola. Ma concludendo tutta la revisione sistemica e quindi tirando le somme non vi è una correlazione tra eventuali decessi rari fortunatamente sui milioni di utilizzo e l'utilizzo della molecola. Questo ci conforta, non ci autorizza a una automedicazione, io personalmente sono andrologo quindi prescrivo spessissimo molecole di questo tipo ma consiglio sempre alla persona di interfacciarsi col proprio cardiologo di fiducia per l'autorizzazione all'utilizzo della molecola. Ogni specialista ha le sue competenze, devo dire è una molecola che utilizzo con serenità, la consiglio al paziente senza grossi dubbi anche da parte mia, però il consiglio finale anche sulla ricetta di un confronto, di un conforto del proprio cardiologo di fiducia mette un po' al sicuro tutti quanti, la persona in primis e onestamente anche poi lo specialista che prescrive la molecola. però insomma ecco volevo darvi il titolo mette paura ma le conclusioni sono a nostro favore, insomma una molecola safe che può essere utilizzata con estrema tranquillità sempre con le giuste attenzioni e con le giuste posologie perché ho visto chiaramente sul mercato prodotti underground con chiaramente degli eccessi di posologia che devono essere sempre ben ponderati. Con questo vi saluto, siamo a fine del 2022 quindi ne approfitto per augurare a tutti delle buone festività, speriamo e ci vediamo sicuramente in prossimi video sul mio canale e intanto buona giornata e buone feste a tutti.